ben ritrovati sono vestita questo è il look di oggi che come avrete intuito non è un look da spiaggia infatti non stiamo andando al mare ma a fare un giro con rino lo scuterino verso la francia un po dove ci porta al cuore più distante arriviamo meglio è così un po all'avventura l'avventura perciò si inizia questa giornata prima tappa il nostro viaggio on the road rino siamo poco dopo es però qua vale la pena fermarsi perché adesso sto per giurare la videocamera e beh quello è es e qua sempre la grandissima bellezza in love in love ci abbiamo fatta siamo arrivati a nizza siamo qua già seduti con le zampe sotto la tavola al nostro posto preferito ovvero il ristorante vietnamico maniare abbiamo maniato in Adesso sono riuscita a convincere incredibilmente Daniele a portarmi fino a Poligorriera, Cagnes ormai, dove c'è, cercando di non farmi investire nel frattempo, Primark, fatto un colpaccio grosso, incredibile. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Non ho idea esattamente di... di Franchi probabilmente, comunque se giro la camera... tra l'altro bellona io, casca d'acciaio! Comunque, vogliate gradire questa vista di barche su barche su barche su mega yacht, su barche su barche su barche, in questa pregiata insenatura. Grazie per la visione! Buonasera amici ben ritrovati, ho fatto un cambio d'abito, in compenso sono sudata come un vitello. Ma non importa. Come potete notare, ho finalmente trovato un'occasione per indossare il mio abito vintage di mamma, quello, per capirci, del Capodanno al G-Mits di Monte Carlo, e io lo metto per andare a mangiare cozze in pizzeria. Si vola altissimo amici, però caruccio no? E dietro, che non so se si vede, forse è plastica, c'è la schiena tutta scoperta. Più che altro lo metto perché c'è un caldo porco, in più oggi sul giro di scooter ho il naso rosso, sono tutta un po' provata, e vabbè adesso non si vede che ho il sandalo, ma ho il piede a strisce. Brava! Bene! Lucida come una disco ball, che però è perfetta con il tema febbre del sabato sera del vestito. Ok, andiamo a mangiare cozze, va! The next day Buongiorno amici, ben ritrovati, mi eravate chiesti dove ero finita, eh? Non mi affrega niente a nessuno, comunque eccomi qua, ciao! E voi direte, eh ma come mi sei tutta agghindata? Ebbene sì, sono così agghindata perché... Ecco qua, ho girato un video nella mia follia, guardate il setup, eh che setup vi ho messo a soffrire. Nella mia follia più o meno, nel senso che sapevo poi a rientro il tempo proprio sarebbe stato scarnissimo, e allora ho detto vabbè, profettiamo di ste vacanze, portiamoci dietro, tanto che già stiamo praticamente traslocando anche la roba per giocare il video, e quindi, tadac, questo è. Questo ho fatto stamattina, Daniele invece è andato in spiaggia, io col fatto che col ciclo non c'avevo voglia. questa è la verità e quindi due piccioni con una fava peraltro mi ha appena telefonato dicendo fammi una foto, adesso vogliate gradire storie nella quale si vede qui dal terrazzo Daniele in spiaggia metterò una freccina ti vedo visibilissimo, proprio fammi una foto che vengo bello in primo piano tra l'altro scusate c'è un casino in questa stanza perché sono tornata nella stanza perché mi è venuto in mente che ieri vi ho posto una domanda e molti di voi hanno risposto, la domanda in questione era, secondo voi dei telecapi che ho provato da Primark quale ho comprato? perché ne ho comprato solo uno di quei tre che vi ho mostrato più alcune cosette che adesso vi mostro in un brevissimo haul perché non è che ci siano due certe cose comunque quelli di voi che hanno risposto capo numero due hanno indovinato e infatti eccola qua la tutona in stile meccanico così un po' avviatore un po' meccanico un po' rivetire yes we can no quello era Obama we can do it non mi veniva più l'ho presa mi piaceva alla fine mi piaceva era una roba che volevo da un po' non vedo l'ora di indossarla e poi ho portato a casa altre cosette che adesso andiamo insieme a analizzare dunque non c'era tantissimo a dirvi la verità che mi proprio colpisse però ho preso anche questa camicina che sembra abbastanza semplice normale in effetti lo è ma la cosa che mi piace è che si lega in vita quindi ha questa parte qua che si lega manica lunga però risvoltabile collettino semplice ma caruccia questa l'ho pagata tipo 17 euro e se non sbaglio la tuta costava 27 e poi ho preso invece delle cose da tenere in casa adesso le metto qua un po' meglio sul letto così le vedete dunque questo pigiamino con pantaloncino e canotta 7 costa la canotta 7 costa il pantaloncino che per prima che mi è già un po' caro però caruccio è comodo da tenere in casa infatti mi sa che fa un po' me lo metto su e poi un altro pantaloncino qua mi ha conquistato qua il tassellino tipo tenda della nonna e poi giallo insomma caruccio questo se non sbaglio andiamo a vedere 3,50 e questo è un po' il mio all prime anche sul letto sfatto in camera in condizioni disastrate va che roba infatti è quasi il caso che metta un po' d'ordine tra l'altro tanto per darvi un'idea di quanta roba mi sono portata qua due cose proprio vogliamo parlare dell'armadio? pieno brava tu si che sai fare dei bagagli studiati e morigerati bene adesso vado a mettere ordine perché fa un po' mi torna su quell'altro dalla spiaggia e di sicuro mi dice che casino che c'è e c'ha anche ragione quindi dai mettiamo a posto e poi vediamo cosa ci riserva il resto di questa giornata a un certo punto forse mangeremo anche pranzo insomma anche che ore sono che ore sono? lo metto qua a dopo ciao buonasera amici ben ritrovati ho già messo sul pigiamino di Primark è sempre fashion icon tanta roba giornata serena giornata pacifica giornata di nulla e di niente proprio esattamente come piace a me stamattina ho girato il video dopodiché mi sono messa mi sono struccata quello che vedete è solo il filtro Kylie in full effect mi sono struccata mi sono messa fuori con la brezza marina a leggere il mio libro beata come una Pasqua per quelli che me l'hanno chiesto il libro mi sta piacendo ho già letto anche tutti i precedenti di Alice Basso tutti con la stessa protagonista Vani Sarka Sarka si chiama sì mi piacciono mi piace il personaggio poi io mi affeziono quindi mi sta piacendo anche questo nel momento attuale invece mi raggiungete qui in cucina se sentite uno scoppiettare in sottofondo è perché stiamo grigliando verdure come non ci fosse un domani perché direte voglio gli altri verdure perché stiamo preparando il nostro grande classico dell'estate se avete visto il mio vlog dell'anno scorso lo saprete il nostro grande classico dell'estate è Cus Cus di verdure grigliate che questa sera in una botta di vita che molla ci proprio arricchiamo con calamari e gamberetti grigliati a loro volta cioè tutta vita eh altro che la Ferragna e Bizza ciao salutiamo la Ferragna e Fedez la situazione è comunque verdure in fase di grigliamento di grigliazione verdure già grigliate erbette varie ed eventuali e altre cosette che immagino che il cuoco che poi è Daniele abbia intenzione di grigliare ricetta facilissima grigliate le verdure cuocete il Cus Cus che ci vanno 5 minuti e poi mischiate il tutto conditi a piacimento con olio magari olio e aglio fate un po' un intingolo olio aglio e erbette mettete tutto insieme lo lasciate un po' lì a riposare che prende gusto e siamo a cavallo questo è il programma per la serata tutta vita e alla fine siamo usciti di casa questo è il mio look aperitivo e questo è l'aperitivo e questa è la vista dietro di me siamo tornati dall'aperitivo e siamo alle ultime battute del nostro ricco piatto della cena ovvero qui abbiamo il Cus Cus con le verdure grigliate in attesa di ricevere calamaretti che sono stati già grigliati e andiamo adesso a grigliare anche i gambers complimenti al cuoco io sono solo il tuo chef in tutta questa vicenda vi faremo vedere più tardi la ricetta finita attenzione gamberi e calamari sono entrati a far parte della gloriosa famiglia del Cus Cus un colpo di limone e si vola crema giure la ricetta A presto A presto Ho comprato la sdraiettina Non so se la vedete La bellezza della sdraiettina Oh bene che sto Bene che si sta Dopo aver fatto la doccia Tornati dalla spiaggia Le grandi verità del mondo Ad ogni modo Visto che però la faccia adesso mi tira Come fossi la mummia di Tutankhamon Un po' per il sole Un po' per il sale Tra l'altro si vede che ho preso un po' di colore Eh? Mh? Mh? Vabbè comunque dicevo Siccome la faccia adesso mi tira Faccio una maschera Ma una maschera di quelle intelligenti Non una maschera in tessuto Non una maschera in gommina Non una maschera da risciacquare Bensì una maschera di quelle che sono Live in Che si tengono su Vi faccio vedere Questa qua Che non è niente male È la drink up della Origins Con l'albicocca E l'acqua del ghiacciaio svizzero Eh? Tutta vita Che mi piace per un motivo Ed è uno su tutti Si tiene su appunto Non è da risciacquare È una maschera di quelle Che funziona un po' come una crema Ne metto un po' Senza esagerare E in teoria dovrebbe Riportare un pochino Di idratazione Nella mia pelle Scecca Proviamo Poca eh Perché secondo me Poca Basta Perché questa È potentissima E tra l'altro Il profumo di albicocca E sta roba A me piace sempre un bot Ah Se le cose vanno come immagino Fra un secondo La mia pelle se la sarà già Influencer di maschere per il viso Il profumo di albicocca A troppo Ciao Per il profumo di albicocca Grazie a tutti.